nel campo di concentramento giapponese spesso mio padre ed io ci risedevamo sotto un albero di ciliegi nelle cui foglie seccate al sole venivano macinate e arrotolate dentro una foglia più grande per farne sigarette ho ancora nennato l'odore di quelle sigarette di frammenti di ciliegio un poco simile al trinciato al miele buonissimo da annusare anche se raschiava la gola a chi le fumava gli adulti le fumavano naturalmente e a lungo andare faceva venire mal di testa sotto quel ciliegio che però non produceva frutti perché era inselbatichito mio padre mi parlava di libertà di come sia difficile vivere nella e per la libertà non eravamo in una prigione privi completamente di libertà per avere difeso la libertà di parola e di pensiero sotto quel ciliegio mio padre mi insegnava anche la tavola pitagorica quanto fa 6 per 7 non mi ricordo prova a cantarli i numeri prova con me ecco 2 per 2 fa 4 3 per 3 fa 9 4 per 4 16 prova e io provavo cantando con lui e così apprendevo rapidamente ancora oggi se voglio ricordare quanto fa 8 per 8 devo cantarlo nella mente ricordando la voce di mio padre e ricordo anche che ripeteva spesso libertà vo cercando che mi è cara con le parole di dante per il mio compleanno nel sempre nel campo di concentramento papà fosco mi ha fatto più grande regalo che potessi desiderare un pinocchio di legno intagliato in un ramo al famoso ciliegio era un burattino rozzo approssimativo al mio giovanissimo padre mancavano gli strumenti per intagliarlo bene soprattutto per attaccargli gli arti ma per me che ero completamente priva di giocattoli era un dono inaspettato e felice me lo portavo sempre appresso me la racconta la storia di pinocchio papà ma lui non ricordava le favole chiedi a mamma rispondeva lui sapeva tutto sulle stelle sulla nascita dell'universo sapeva tutto sulla geografia sulla storia sulla filosofia ma le favole non le ricordava chiedi a mamma e così io andavo da mia madre e dicevo mi racconti la storia di pinocchio e lei con pazienza mentre cuciva le camicie per i guardiani dietro compenso di un uomo di un uomo di una patata per noi bambini affamati mi raccontava di pinocchio di geppetto del grillo parlante della fatina dai capelli azzurri è la prima vera storia italiana che io abbia imparato a conoscere sapevo a memoria tante storie favole soprattutto ma erano giapponesi me le aveva raccontate la tata morioka sandetta anche okacian che vorrebbe dire piccola mamma visto che ci accudiva e ci nutriva come avrebbe fatto con una madre okacian raccontava terribili favole di fantasmi che si aggirano di notte per la campagna a caccia di bambini disubbedienti che poi venivano trasformati molte volte in volpi volpi che poi sedute sull'orlo di un pozzo nelle notti di luna piena aspettavano che un uomo venisse a dare loro il bacio della libertà con quel bacio incantato tornavano a trasformarsi in persone umane questo è un pezzo dal mio libro che si chiama la grande festa ecco ve lo mostro questa bella copertina e vi saluto grazie Grazie.